Oggi Amazon è qui in questo importante appuntamento con tutti i comuni italiani perché siamo un importante membro delle comunità in cui siamo presenti con i nostri siti, praticamente in tutte le regioni italiane. Credo che sia molto importante in questo momento dare un segnale al Paese, un momento molto complesso e quindi è importante che ci sia una collaborazione tra pubblico e privato, quindi tra le istituzioni e le aziende private come Amazon, per dare un impulso al Paese. In questo senso ci sono due importanti progetti che abbiamo annunciato qui oggi. Il primo è il rinnovo dell'accordo con l'agenzia ICE, l'agenzia per il commercio estero, che abbiamo firmato per continuare a sostenere le tantissime piccole e medie imprese italiane che attraverso Amazon riescono a raggiungere clienti in tutte le parti del mondo. Il secondo progetto è un progetto di sostenibilità, abbiamo annunciato il lancio di quattro hub di micromobilità in quattro importanti comuni italiani, Milano, Genova, Bologna e Napoli e in questo modo vogliamo rendere le nostre consegne completamente sostenibili e in questo modo contribuire al processo di decarbonizzazione di queste città e ovviamente alla riduzione del traffico urbano.